Una macchina piena di genere alimentari. L'ennesimo schiaffo ad una società latitante da parte di un gruppo di tifosi del gruppo Orgoglio Aquilano che, grazie alla generosità del dottor Luigi Manieri e all'impegno di Antonello Ciocca e Alessandro Di Norcia, hanno consegnato ai giocatori dell'Aquila Calcio ieri pacchi di spesa. I giocatori rosso-blu, con l'allenatore, staff e collaboratori, ormai da tempo non percepiscono rimborsi e si vive ormai alla giornata, con una sorta di autogestione. Ma loro, i giocatori, sanno di giocare per un pubblico che li ama e li sostiene e questo si traduce in campo in risultati nonostante tutto. I tifosi, lo ricordiamo, avevano già pagato la trasferta a campo basso per poter permettere ai giocatori di poter fare il ritiro. Una situazione a tratti penosa che purtroppo ha più nuvole che sole. Lunedì sarà il giorno della verità con l'Assemblea dei Soci che dovrebbe approvare il bilancio con una sorta di concordato, ma non si sa neppure se Fioravanti e Company, dopo, assicureranno la gestione corrente. Insomma, un quadro vergognoso per un capoluogo di regione e per una squadra sempre più abbandonata a se stessa.